come va ragazzi un saluto ben ritrovati un abbraccio da milanello la casa dei milanisti come me come te come noi 91.000 quasi ben ritrovati scatenatevi mi raccomando cerchiamo di vivere insieme quest'estate e di ripartire più forti che mai il prossimo anno con l'obiettivo personale desiderio personale di arrivare alla seconda stella prima di loro chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di milano se un cuore rosso nero hai amato almeno uno tra girù Ibrahimović nei tempi moderni Baresi Maldini Donadoni Gullit UEA Birov Kakasheva Inzaghi allora ne hai amato almeno cinque di questi allora cuore rosso nero doc benvenuto iscriviti qui e attiva la campanella vediamo quanti nuovi iscritti rossoneri tutti uniti mi raccomando commentate e lasciate un bel like qui sotto e sta per concludersi questa stagione dico fortunatamente è ufficiale giocheremo domenica alle ore 21 contro il Verona e abbiamo ancora qualcosa da sistemare mi ha mandato un bel messaggio motivazionale carlo poliani dobbiamo battere il Verona dobbiamo sistemare anche cose passate con il Verona ricordarci di certe cose certe situazioni certe partite e anche di una rivalità e sperare appunto che si possa arrivare nei primi quattro posti sul campo vediamo giocheremo ripeto alle ore 21 di domenica poi finirà la stagione ma è un mercato che è già iniziato e sembra mi sembra che siamo partiti con il piede giusto con l'operazione sportiello l'operazione di fatto pratica conclusa che riguarda camada ma anche dell'altro e a breve facciamo il punto su tutto e speriamo di analizzare insieme poi a settembre un'estate ricca un'estate in cui raccogliamo i frutti anche della passione con cui costantemente il popolo rosso nero è andato allo stadio ha partecipato anche attivamente ha contribuito anche economicamente credo che poi col Verona anche se apparentemente gara poco importante ci sarà probabilmente ancora 70.000 spettatori ci saranno Milano ha avuto molto dei suoi tifosi ora è il momento di ricambiare questo con un'estate in cui ci aspettiamo tante operazioni ma soprattutto devono essere operazioni brillanti e speriamo per una volta che ci sorprendano che a regime si possa vedere una campagna acquisti in cui diciamo chapeau bravi ma che bello a questo proposito adesso parliamo anche di Sergei Mininkovic Savic alla fine di questo video poi vi rimando a quello precedente per fare il punto anche sulle prossime operazioni dopo kamada ripetiamo kamada che dovrebbe fare le visite mediche dopo la coppa che deve giocare line track della prossima settimana vedremo insieme la durata del contatto se tre o cinque anni comunque l'accordo scesa con tre milioni di euro più qualcosina di bonus per un giocatore sul quale ho letto commenti diversi anche nel video precedente c'è chi dice ci fa fare il salto di qualità che è un po freddino ecco io sono molto speranzoso dico che a zero un'operazione interessante ma non vale zero e ha la testa la cultura del lavoro e credo anche qualità per fare bene al minan deve essere verificato ovviamente in serie a più complicata rispetto alla bundesliga soprattutto a livello di attaccanti trequartisti giocatori offensivi che in italia devono fare i fronti con fasi difensive difese più strutturate e meglio organizzate rispetto a quelle della bundes detto questo ragazzi vorrei partire però con un giusto doveroso elogio per un giocatore che secondo me è stato troppo spesso bistrattato anche dai nostri è troppe volte quando magari le cose non vanno bene è un vecchio è un brocco ho tirato le orecchie anche qualche mio amico qualcuno voi lo conoscete ecco avete magari pensato anche a chi è un giocatore che merita tantissimo rispetto merita grandissima considerazione e che merita il prossimo anno di giocare quando sta bene è un grandissimo davvero oltre che una brava persona cosa che non guasta mai merita di giocare quando sta bene perché se sta bene è uno che la porta la vede e la vede anche bene con gol pesanti mi riferisco a la voce non c'è più è colpa di girù olivier girù che ragazzi comunque ha timbrato ancora ha fatto il gol champions quello è il gol champions league è arrivato comunque a 12 gol e 5 assist lui non è un attaccante da 20 25 gol non l'ho mai stato ovviamente non lo sarà mai perché a fine carriera per un attaccante dai gol pesanti e dalle ottime medie nonostante abbia giocato tanto perché quest'anno ha fatto 32 partite in serie a sono tante per un 36 n ha una media di una rete ogni 172 minuti che è notevole una rete ogni due partite neanche in champions league 5 gol e due assist una rete ogni 188 minuti notevole anche questa media comunque lui chiude poi c'è manca una partita chiude la stagione a 46 chiuderà 47 partite e a oggi 17 gol e 7 assist 17 gol e 7 assist sono tanti per un giocatore di 36 anni spremuto perché non aveva ricami perché altri non erano pronti che ha giocato per un mese e mezzo con l'infiammazione al tendine limitato ogni volta che faceva uno scatto doveva fare fisioterapia era lì che si tirava ci ha messo il cuore è diventato subito rifiuto una chiamata scusate un grande rosso nero e spesso è stato un po troppo criticato ragazzi ha fatto gol pesanti ed è importante il prossimo anno che venga affiancato da un giocatore più giovane più integro perché per carità 36 anni e mezzo ne farà 37 a settembre non puoi essere un fresco e e integro sano come un ventenne così che lui possa giocare quando serve quando sta bene lo vedi subito quando è in condizioni di giocare quando sta bene o quando è limitato o il mal di schiena o l'infiammazione al tendine lo vedi che lui stringe i denti ma fa fatica però comunque ci mette sempre il cuore la grinta va a fare sponda fare sportellate ci mette tanto era il giocatore più deluso dopo eliminazione in champions league ti fa capire anche quanto a 36 anni hai vinto tutto ma vuoi ancora vincere quindi quanto dentro te c'è la voglia di vincere e quindi la cultura del lavoro per forza di cose un grandissimo girù davvero merita tantissimi applausi commentate scatenatevi qui sotto mettete anche un bel like per olivia girù che il prossimo anno gestito diversamente ci potrà ci potrà dare continue soddisfazioni abbinate però un attaccante più giovane e insieme il numero 9 quest'anno del minan quanti gol ha fatto ecco senza girarci troppo attorno lui in campionato ne ha fatti 12 più uno di ibra sono 13 olighi ne ha fatti due mettiamolo come numero 9 sono 15 rebic 3 18 il nostro numero 9 il prossimo anno detto che rebic ha fatto anche d'esterno qualcosa diciamo 17 il nostro numero 9 il prossimo dovrà farne 28 30 divisi magari con i 12 di girù e 18 del prossimo che arriverà saremmo decisamente più avanti di punti di possibilità di ambizione deve essere la mission estiva ma nel frattempo ragazzi ripeto chapeau a girù che merita rispetto incondizionato e uno a 36 anni poteva tirare indietro la gamba poteva dire no guarda non sto bene perché non stava bene non me la sento cosa che hanno fatto altri per cose ridicole ogni riferimento ad alcuni suoi compagni riparto è puramente non casuale quindi un grande girù dopodiché è un'estate che è iniziata bene e speriamo possa portare al al colpaccio al colpaccio come numero 9 piuttosto che come centrocampista magari anche entrambe ecco in questo senso parliamo di serghe bilincovi samic è una fissazione di mister pioli è il sogno di mister pioli oltre che almeno oltre che tanti di voi credo possano sognare questo giocatore che ieri ha fatto un'altra doppietta è arrivato a 9 gol e 8 assist da centrocampista numeri deliziosi lui ha fatto anche due gol in europa league e numeri di una retta ogni 327 minuti in serie a molto buona e che cosa succede allora ieri dopo la partita lui ha detto diplomatico ancora un altro anno di contratto ne parleremo a fine stagione del mio futuro adesso abbiamo ancora una partita tradotto ovviamente non vuole esporsi non vuole dire pubblicamente quale sarà il suo futuro l'ottito non vuole assolutamente perderlo a zero quindi adesso cercherà di scatenare l'effetto asta soprattutto all'estero dove però lui a oggi non ha grandissimo mercato non ha grandi estimatori il suo entourage Kedsman smentisce di aver parato con qualcuno del Milan nonostante un mese e mezzo fa si era parato di un incontro con Massara e Kedsman appunto un incontro diciamo così di perlustrazione di questo terreno dall'altra parte ieri la Lazio ha salutato Radu che smette ma la curva ha salutato anche Milinkovic Savic con uno striscione che più o meno recitava così qui oltrove sarai sempre nel cuore di tifosi della Lazio così come ieri l'Octus Cic è stato salutato dal pubblico di Sanford Bridge ieri poi lui ha messo un like a un post su Instagram con la foto di Giroud e la scritta al Milan raggiunge l'aritmetica con le figazioni di Champions League poi lo ha tolto vedendo il bailam che si stava creando ma questo ha portato sui social tanti tifosi rossoneri a pubblicare post diversi profili anche un po' più giornalistici a scrivere di questo a raccontare la situazione tanti che hanno fatto fotomontaggi di Milinkovic Savic con la madre del Milan e con scritto sta arrivando ebbene Leao, Rafa Leao che è molto social ha messo il like a questi post nell'era in cui la comunicazione passa anche dai social e i social sono strumento di comunicazione di fatto ha fatto capire di apprezzare molto questa pista di sperare di vedere Milinkovic Savic con la madre del Milan e di poter giocare insieme a lui ecco di fatto un titolo a livello giornalistico potrebbe essere Leao chiama Milinkovic Savic l'SMS di Leao a SMS Milinkovic Savic con un desiderio di portarsi a caso un giocatore del genere che ti può cambiare la vita perché ti porta un'attitudine offensiva che i nostri centrocampisti non hanno una predisposizione a fare gol che i nostri centrocampisti non hanno una capacità di dominare a livello fisico che i nostri centrocampisti non hanno per questo ecco sarebbe il colpo dei colpi che ti fa impazzire tutto il pubblico che già oggi è pazzo perché ripeto per un Milan-Verona saremo comunque 70.000 tifosi allo stadio per questo ragazzi dopo Pioli il sottoscritto che non conta nulla tanti di voi si inserisce anche Leao in questo corteggiamento social a Milinkovic Savic la cui partenza è secondo me pressoché certa in estate ma il che vada lo titolo si accontenta di una trentina di milioni di euro e io spero che questo versamento possa arrivare da Milano da Via Aldorossi dalla C Milan lo spera Pioli su tutti che lo ha avuto e che vede lui l'uomo giusto per ribaltare il Milan e farlo tornare a essere una squadra clamorosa cosa che quest'anno si è vista non tanto ditemi che cosa ne pensate viviamo insieme comunque questo finale di stagione che è importante e speriamo che il regime possa essere una campagna acquisti sorprendente vi rimando al video precedente in cui vi parlo del resto perché è un Milan in questa fase scatenato mi raccomando commentate numerosi per Giroud il vostro parere su Milinkovic scrivetemi qui sotto appunto il vostro rossonero preferito della storia tanti auguri a Massimo Ambrosini che oggi compie gli anni mi sono dimenticato chiedo scusa ma meglio tardi che mai lasciate un bel like che possa essere il video con più like e iscrivetevi qui un benvenuto ai nuovi che si iscriveranno nel corso di questo video in questo momento da questa parte siete dei cuori rossoneri se hai un cuore rossonero allora sei benvenuto e se vi va scrivi qui il tuo nome poi ti daremo il benvenuto tutti insieme un grazie vecchio e un benvenuto ai nuovi avremo presto 100.000 iscritti con il Milan tutti uniti in questa estate speriamo possa essere una bella estate soprattutto propedeuti con la stagione vincente il prossimo anno un abbraccio ora al video precedente ciao